Palla grossa anticipata al mese di luglio sempre al parco dell'ex ipodromo. È la scelta del comune per salvare la manifestazione dopo il fallimento di questa edizione falcidiata dal maltempo e dai dietrofront dei giocatori e contrassegnata da un'enorme emorragia di pubblico. In realtà l'ipotesi era già caldeggiata per quest'anno ma poi la levata di scudi dei calcianti per il cambio di location da Piazza Mercatale all'ex ipodromo ha portato alla conferma di settembre. Il risultato delle due partite è sotto gli occhi di tutti. La manifestazione è costata oltre 50.000 euro in più del programmato ma è stata seguita da poche centinaia di persone. Un flop forse annunciato da cui l'amministrazione parte per lanciare lo spostamento a luglio quando le condizioni meteo in genere sono più clementi e le giornate più lunghe. Inizia ora la trattativa con l'associazione Palla Grossa che dovrà concludersi per metà ottobre. Questo infatti è il traguardo temporale che il comune si è dato per decidere sulla proroga della concessione del settembre pratese a Fonderia Cultarte che due anni fa ha vinto il bando. Anche da questo, non evidentemente soltanto da questo, dipende una valutazione sulla fattibilità complessiva del settembre, anche in termini economici evidentemente. Ovviamente assieme alla Palla Grossa si sposteranno anche tutti gli eventi collaterali come ad esempio il Magda Clan Circo e la Fluoran che hanno riscosso grande apprezzamento. La location resta l'ex ipodromo che secondo comune Fonderia avrebbe delle grandissime potenzialità. Nel mese di settembre, nel settembre in particolare di quest'anno, ha creato non pochi problemi. Abbiamo dovuto rinviare numerosi eventi oltre alla partita della Palla Grossa. La valutazione che è stata prima detta di utilizzare l'arena e il parco nel mese di luglio sicuramente andrebbe a colmare i limiti posti da un parco nel caso di piogge.